Per chi non mi conosce, sono Alessandro Lerro, presidente del comitato scientifico di Assofintech e uno dei fondatori di questa associazione. Da sempre abbiamo cercato di sostenere attività di lobby e di advocacy nel settore del fintech e della finanza alternativa. Perché parliamo di finanza sostenibile? Prima di tutto stiamo parlando di un problema etico. Il problema del riscaldamento globale sotto gli occhi di tutti è una situazione dalla quale non ci possiamo sottrarre per alcuna ragione. Ma non è soltanto un problema etico ad interessarci. Ci sono anche delle opportunità che sono estremamente rilevanti. In primo luogo delle opportunità di marketing. Spesso si contesta il cosiddetto fenomeno del greenwashing che obiettivamente è una sorta di trucco che viene dato alle strutture per farle sembrare un po' più verdi. In realtà credo che in una fase come quella che stiamo attraversando adesso il greenwashing non sia il male assoluto, sia un modo di cominciare a far capire alla gente che bisogna pensare anche al profilo della sostenibilità. Quindi non è appunto il male assoluto. Quindi è un profilo di marketing importante. Poi c'è anche un'altra motivazione per la quale parliamo di finanza sostenibile che è una questione proprio di bisogno. Oggi per avere denaro è indispensabile avere un profilo SG. La BEI non dà più finanziamenti nei confronti di soggetti che non siano SG compliant e come vedremo tra poco il quadro normativo si sta indirizzando verso una obbligatorietà di un profilo SG quantomeno finalizzato alla sostenibilità dal punto di vista ambientale. Ci troviamo in una congiuntura molto molto particolare dove abbiamo tre forze in gioco. Sicuramente forze economiche che stanno convergendo nel pretendere una svolta verso la sostenibilità. Poi ci sono forze sociali e forze tecnologiche che sono quelle alle quali prestiamo sempre grande attenzione come Assofintech, tutte cointeressate per uno sviluppo e un sostegno delle aziende che vogliono entrare nel mondo della profilazione SG e del miglioramento. Ogni azienda oggi è al centro dell'attenzione ma con il suo ecosistema non da sola come una monade perché quando andiamo a verificare un'azienda dal punto di vista SG dobbiamo verificare anche i suoi fornitori, dobbiamo verificare anche i suoi clienti. Quindi il suo stesso ecosistema così come gli stakeholder e il territorio nel quale quella realtà si appresta ad operare. Sapete che l'evoluzione normativa nel mondo SG è sostanzialmente concentrata negli ultimi dieci anni. Da prima già si parlava di rilevanza di questi profili ma c'è stata un'accelerazione a partire dal 2014 e poi con la definizione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e poi una serie di ulteriori elementi di cui ci parlerà di seguito anche il professor Giudici. Di fatto ci troviamo oggi a gestire una situazione nella quale abbiamo il bisogno di istituire un laboratorio comune per promuovere da una parte l'innovazione e dall'altra l'elaborazione di best practice in materia di finanza sostenibile. C'è la necessità di avere delle linee guida perché oggi il mondo dell'SG è conosciuto da pochi ed è in larga parte terreno di occupazione spontanea da parte di molti che non hanno delle linee alle quali allinearsi e quindi vanno di testa loro a sviluppare processi che poi non è detto che abbiano requisiti di misurabilità, obiettività e così via. E poi bisogna valutare l'incidenza delle iniziative SG sui profili contabili, quindi sugli investimenti, su quelle che sono le risultanze del bilancio per vedere anche se c'è un'incidenza sul fair value delle delle società o dei portafogli finanziari. Dicevo c'è un intervento normativo importante, questo intervento normativo è stato fatto dall'EBA che in modo molto deciso ha imposto che dal primo luglio scorso quindi parliamo di qualcosa che è già in vigore, tutte le istituzioni finanziarie che rilasciano credito, sono impegnate in investimenti devono effettuare una profilazione ESG del loro target di investimento. Nelle proprie linee guida l'EBA si sofferma sulla E, quindi sul profilo ambientale e sulla incidenza che un determinato business ha sul cambiamento climatico quindi vengono valutati in particolare dal punto di vista finance, i rischi fisici, i rischi di transizione in un cambiamento, in un'evoluzione verso una impronta di carbonio meno pesante, i rischi relativi al cambio di preferenza da parte degli investitori o dei consumatori di quella determinata azienda i rischi di responsabilità civile che per alcune aziende potrebbero essere rilevanti e quindi i rischi legali. Se guardiamo questa matrice vedete l'impatto di alcuni temi estremamente critici sulle banche e sugli stakeholder Il climate change ancora non è a livello massimo di impatto, è molto rilevante anche la parte etica così come è rilevante la parte della digitalizzazione dal punto di vista dell'analisi degli stakeholders ma il climate change è imposto a questo punto dal lab e quindi diventa una regola da rispettare per forza Sapete che il mondo ESG comporta una possibilità di classificazione delle società fino alla configurazione di società benefit o di B Corporation e che l'analisi ESG, rating ESG è il primo passaggio. A cosa servono le azioni ESG? A identificare e definire i rischi, a definire una governance, una strategia di miglioramento quindi l'analisi ESG è prospettica mentre il sistema ISO tradizionale, ne parlava poi Camillo Zana fa un po' una fotografia dei processi ed è guarda indietro l'analisi ESG deve guardare molto in avanti, il miglioramento che può fare l'azienda poi i processi, gli strumenti e ovviamente il reporting di quello che l'azienda vuole fare dal punto di vista ESG contribuendo quindi alla creazione di valore rispetto all'ambiente esterno alla relazione con gli stakeholder o con altri soggetti come per esempio i fornitori per alcune aziende è già obbligatorio un report di sostenibilità parliamo delle grandi imprese, parliamo delle società quotate certo non è vietato fare un report di sostenibilità per le aziende più piccole e sicuramente può dare una mano nel raccontare la storia di un'azienda e quindi nel perseguimento di una serie di obiettivi che vedremo tra un attimo il report di sostenibilità deve necessariamente appoggiarsi su delle fasi che sono la raccolta dei dati, la definizione di un metodo per l'analisi e la raccolta dei dati la definizione di un report di sostenibilità e quindi una fase certificativa di cui poi appunto il dottor Zana ci parlerà nella mondo ESG, nella logica ESG si parla di capitali cosa sono i capitali? Non sono tecnicamente i capitali che conosciamo nel mondo finanziario cioè non sono soltanto il denaro ma sono degli stock di valore che servono per identificare e valutare la capacità di una società di porsi in un determinato modo rispetto alle tematiche ESG quindi sono sicuramente finanziari ma sono anche umano, produttivo, intellettuale, sociale, relazionale e quindi servono a esprimere la posizione di un'azienda in un determinato contesto le esternalità invece determinano un incremento, una riduzione dei capitali quindi sono esternalità positive o negative che possono comportare una variazione dell'apprezzamento che una determinata società nel suo contesto apprezzamento da parte di chi? degli investitori, vi ho detto all'inizio, la capitalizzazione di borsa delle società oil and gas è crollata vertiginosamente in dieci anni ma rileva anche il parere dei fornitori e dei clienti poiché i fornitori e i clienti sono a loro volta delle aziende e quando andranno a fare la loro profilazione ESG per loro non sarà la stessa cosa se il loro fornitore ha un profilo ESG scarso o un profilo ESG brillante una società che ha un fornitore che ha un profilo ESG scarso è a sua volta danneggiata poiché non ha scelto il giusto fornitore in una logica ESG quindi anche nella definizione del modello di business è fondamentale andare a verificare come giocano queste forze e qual è il loro posizionamento considerate che alcune soluzioni come il matter of setting non sono ammesse dai criteri ESG bisogna lavorare su una prospettiva quindi non è che sono un grande inquinatore alle minie di carbone e faccio l'asilo per i figli dei dipendenti quindi lavoro soltanto sulla S abbandono totalmente la E e quindi rinnovo il mio profilo ESG e mi rifaccio il trucco no, quello non è nemmeno greenwashing è semplicemente sbagliato è una soluzione di offsetting che è al di fuori della tassonomia di cui parlerà anche il professor Giudici e quindi non è un elemento positivo bisogna definire una prospettiva bisogna definire un cammino una strada di cambiamento ci sono delle aziende come per esempio quelle che si occupano di trasporti che oggi sono dipendenti dal gasolio sono dipendenti dagli imballaggi è chiaro che non possono fare molto nell'immediato perché non ci sono alternative credibili al trasporto su gomma basato sul gasolio però possono intraprendere una strada di evoluzione di cambiamento con una serie di iniziative sulle quali poi la consulenza ESG le aiuta quali sono dunque i vantaggi della rendicontazione di sostenibilità perché si fa oltre agli obblighi normativi e le indicazioni dell'EBA quindi per ottenere denaro sicuramente l'incremento di attrattività per gli investitori lasciamo perdere che la banca gradualmente non farà più finanziamenti ma gli investitori in equiti e gli investitori in strumenti di debito sono attratti oggi ci chiedono sempre più di verificare il profilo ESG dei clienti quindi gli analisti finanziari prestano sempre maggiore attenzione alla profilazione delle aziende e questo conduce a una riduzione del costo sia del capitale azionario che del capitale di debito e quindi a minori vincoli di razionamento dall'altra parte consente di attrarre delle risorse umane più qualificate perché in questo momento comincia a esserci una sviluppata coscienza sociale che induce le risorse più qualificate a preferire di lavorare per una determinata azienda piuttosto che un'altra ma c'è anche la riduzione del rischio operativo e il miglioramento della reputazione come dicevo prima nei confronti di clienti e fornitori soprattutto quelli che stanno lavorando sul loro percorso ESG inoltre sono dei temi che aiutano lo storytelling quindi aiutano a rappresentare un'attività aziendale oltre che migliorare il fronte delle operation le informazioni ESG infatti devono essere poi comunicati o quantomeno è opportuno che vengano comunicate da questo punto di vista stanno cominciando a nascere le prime iniziative un po' più tecnologiche direi quasi legal tech con Camillo Zana che vi parlerà dopo di ESG CERT cioè di una società di certificazione abbiamo creato un portale che si chiama ESG Portal dove Avvocati.net ha curato la parte di compliance rispetto ai requisiti dell'EBA e alle caratteristiche finanziarie e questo portale che cosa fa? Cerca di dare una risposta all'assessment ESG anche alle piccole e medie imprese che possono permettersi dei budget molto alti perché la tecnologia consente di andare un po' in autonomia su certi profili fermo restando che è necessario documentare quello che viene indicato in sede di autovalutazione e inoltre è uno strumento che consente di creare un benchmark che al momento non è presente poiché si tratta di una profilazione che comincia a essere diffusa soltanto adesso. La profilazione è seria se fa riferimento a del benchmark di mercato se no è apodittica ecco i benchmark in questo momento sono una materia scarsa non ce n'è abbastanza. Toccherà trovare poi anche delle soluzioni sugli standard di rendicontazione al momento esistono almeno cinque standard internazionali riconosciuti di rendicontazione che possono dare un'indicazione sul profilo ESG si cerca di andare verso metriche condivise almeno il World Economic Forum nel 2020 ha suggerito di andare in questa direzione e bisogna vedere se le nazioni accetteranno di convergere su un unico standard. Ricapitolando perché ESG è informativa di sostenibilità? Sicuramente perché ci sono degli obblighi di legge per alcune aziende quindi le quotate quelle che hanno più di cinquecento dipendenti è fatturato maggiore di quaranta milioni perché per ottenere finanziamento bancario secondo regole dell'EBA è necessario dal primo luglio scorso avere una profilazione ESG con particolare riferimento agli aspetti di sostenibilità ambientale perché se si cercano se si cerca equiti se si cerca debito l'investimento è sempre più spesso opposto in relazione a criteri di sostenibilità ancora perché la filiera di ciascuna azienda sarà sempre più demanding dal punto di vista della trasparenza e dei profili ESG in alcuni casi in alcuni settori dove nel mondo degli appalti è già in atto una tendenza a richiedere una profilazione ESG oltre alle certificazioni usuali per questo settore e perché l'accesso a alcuni finanziamenti pubblici e diciamo l'ABEI da questo punto di vista è un po' un'antesignana potrà richiedere di limitare potrà essere limitata soltanto ai soggetti che hanno determinati requisiti ESG sono andato un po' di corsa per recuperare il tempo perduto dal punto di vista tecnico magari in fase poi di chiusura se vogliamo aprire un dibattito magari facciamo delle domande specifiche entriamo nel dettaglio e a questo punto passerei la parola a Giancarlo Giudici grazie buongiorno a tutti sono Giancarlo Giudici e fra le altre cose con molti di voi ci siamo visti qualche giorno fa la presentazione del report sulla finanza alternativa oggi diciamo cambio Jack sono qua presente in quanto direttore del Master in Sustainable Finance che è attivo presso la nostra scuola di Master del Politecnico di Milano se possiamo far partire le slide perfetto ecco qua possiamo andare alla prima quindi io mi allaccio idealmente a tutto quello che ha detto Alessandro Lero finora che ha fatto questa introduzione a 360 gradi su quello che è il tema finanza sto prendendo tempo infatti sto prendendo tempo quindi mi allaccio idealmente a tutte le cose che ha detto Alessandro Lero finora e mi focalizzerò in particolare su due tematiche che sono quelle della tassonomia che risponde al obiettivo di cui parlava anche poco fa Alessandro cioè quello di evitare il greenwashing cioè tutti sono sostenibili nessuno è sostenibile allora quali sono i criteri per definire quando un'attività può essere definita sostenibile quando un fondo che dice di essere di investire in titoli sostenibili in attività sostenibili può veramente definirsi sostenibile e poi nella seconda parte vorrei magari provare a buttare sul tavolo anche a vantaggio del seguito di questa tavola rotonda una serie di possibili punti che possono indicare cosa può centrare il tema della finanza sostenibile invece con il fintech vediamo se ci riusciamo forse ci siamo se partiamo con la prossima slide ok le posso girare anche da qui va bene quindi molto brevemente tanti parlano di sostenibilità ma forse non è così chiaro perché se ne parla quindi da cosa parte perché tutti parlano di sostenibilità negli ultimi 2-3 anni chi di voi ha partecipato al Salone del Risparmio due anni fa si parlava al 99% di sostenibilità deriva da due cose dal fatto che nel 2015 sono stati fatti due accordi due trattati internazionali il primo che riguarda il cambiamento climatico quindi l'accordo dei pareggi del 2015 è un accordo vincolante ripreso e confermato anche nei giorni scorsi della conferenza delle parti di Glasgow in cui quasi tutti i paesi a livello mondiale si impegnano per contenere il riscaldamento globale a quanto a non più di due gradi rispetto a quello che era a livello preindustriale però l'obiettivo che è stato anche confermato a Glasgow è stato quello di tentare di ridurre a un grado e mezzo l'idea è sappiamo che c'è riscaldamento globale è impensabile tornare a livello preindustriale perché comunque l'attività economica l'attività industriale richiede un minimo di emissioni di CO2 nell'atmosfera però cerchiamo di limitare questo incremento del riscaldamento globale ma non solo l'accordo riguarda anche i temi della mitigazione quindi le parole chiave sono due contenimento del riscaldamento globale ma anche adattamento e cioè cerchiamo posto che un po' di riscaldamento globale ci sarà e quindi il livello dei mari un po' si alza quindi il livello della temperatura un po' si è alzato cerchiamo anche di adattarci questo è un tema molto importante perché per alcuni paesi è un tema vitale avete visto magari in televisione nei giorni scorsi il primo ministro di non so quale Isola del Pacifico che ha fatto la conferenza mezzo sommerso in acqua perché per alcuni paesi questo è un problema proprio di esistenza stessa nel momento in cui il livello del mare tende ad alzarsi e poi lo cito anche perché è un tema di rischio per le imprese quindi il cambiamento climatico fa aumentare la temperatura media quindi vuol dire che chi vende gas ad esempio per riscaldamento fatturerà di meno provoca disastri a livello ambientale provoca siccità provoca eventi meteorologici estremi e quindi questo comporta dei rischi e dei danni per le imprese ad esempio nel settore dell'agricoltura secondo tema seconda cosa che è stata fatta a Parigi nel 2015 e ce la ricordava poco fa Alessandro è quella dei 17 obiettivi strategici globali quindi non si parla solo di clima e di cambiamento climatico ma si parla in generale di 17 obiettivi strategici che in un qualche modo vincolano quelle che saranno le azioni gli investimenti le strategie di tutte le imprese di tutti i cittadini di tutte le organizzazioni da qua fino ai prossimi anni allora in tutto questo come vi dicevo i temi su cui mi voglio focalizzare sono ma qual è la credibilità per i fondi di investimento che oggi si definiscono sostenibili e quindi sono ispirati orientati a questi due questi due temi questi due vincoli che noi abbiamo a livello mondiale e che strumenti abbiamo per che avevamo che strumenti avevamo andava così bene che strumenti avevamo per discernere e come il FinTech può aiutarci sospensa ecco allora quindi nell'ambito di tutto questo che è un tema veramente ampio se ne potrebbe parlare per ore e ore però io ho detto che focalizzo solo su alcune cose quindi ad esempio la tassonomia allora la tassonomia riguarda sostanzialmente due grandi mondi il mondo delle attività produttive quindi una certa attività produttiva può definirsi sostenibile il nucleare è un'attività sostenibile qualcuno magari penserà no è scontato che non lo sia o magari qualcuno penserà no invece lo è perché è meno inquinante rispetto ad altre beh su questo c'è un confronto serratissimo all'interno dell'Unione Europea perché evidentemente alcuni paesi come la Francia vogliono che la produzione di energia elettrica dal nucleare sia considerata sostenibile invece altri sono un po' più tiepidi quindi non è così facile poi dopo definire se una certa attività produttiva è sostenibile o no e quali sono i livelli minimi la soglia la sticella al di sopra della quale se tu non inquini più di tanto questa attività può essere definita sostenibile e su questo ci sono dei criteri quindi una commissione tecnica a livello europeo si è espressa e ha detto quali sono le soglie minime al di sopra delle quali si può definire che se un'attività economica che magari comunque è inquinante di per sé però viene fatta con determinate precauzioni con determinati criteri può comunque essere denominata sostenibile ma il mondo su cui invece vorrei focalizzarmi perché probabilmente riguarda più da vicino il fintech è invece la tassonomia per il mondo della finanza e quindi quando un prodotto finanziario che investe in titoli finanziari di imprese che possono essere più o meno inquinanti imprese che possono essere più o meno attenti al fattore sociale più o meno attenti al fattore di governance loro può essere definito sostenibile e qua l'Unione Europea ci dice ci possono essere tre possibilità il minimo sindacale quello che tutti adesso nel mondo della finanza e del risparmio gestito chiamano articolo 6 è il minimo sindacale quello che ci ricordava poco fa Alessandro e cioè le norme europee ti impongono comunque a ogni market participant e financial advisor quindi praticamente chiunque sul mercato finanziario di dire come tu consideri l'aspetto della sostenibilità nei rischi nella gestione del rischio quindi nel risk management rispetto agli investimenti che fai e qui vale il cosiddetto principio comply or explain quindi o ci spieghi come tu consideri i rischi legati alla sostenibilità il rischio che ad esempio un'impresa in cui tu hai investito poi registri episodi di corruzione il rischio che un'impresa in cui hai investito poi dopo subisca dei danni legati al cambiamento climatico eccetera eccetera come tu lo consideri e se non lo consideri ci devi spiegare il perché comply or explain qua evidentemente è diciamo il minimo sindacale e come vi dicevo infatti non è il posto non è la classificazione dove oggi fondamentalmente i fondi di investimento vogliono finire i fondi di investimento vogliono finire perlomeno nell'articolo 8 articolo 8 perché articolo 8 perché la definizione nell'articolo 8 del regolamento SFDR articolo 8 ci dice che qua in questa categoria ci sono i fondi che fra le altre cose quindi fra elementi classici di analisi fondamentale di valutazione del business della redditività e così via noi andiamo a considerare anche elementi legati alla sostenibilità il che vuol dire che ad esempio se sono indeciso fra investire in due diverse società fintech vado a vedere qual è la più sostenibile e investo in quella che è più sostenibile questo vuol dire sostanzialmente articolo 8 l'articolo 9 è invece la versione più evoluta quindi se un fondo aspira e ambisce a diventare ad essere classificato nella tassonomia europea come articolo 9 è un fondo che sostanzialmente ha come primario obiettivo quindi non come nell'articolo 8 fra l'altro fra le altre cose ma nell'articolo 9 ha come primario obiettivo la creazione di impatto quindi impatto che può essere dal punto di vista ambientale sociale ora come si sta muovendo il mercato guardate che su questo tema tutte le società che in Italia in questo momento producono fondi e quindi hanno sono responsabili gestori di fondi e sulla loro agenda diciamo in cima alle cose da fare perché che cosa accadrà accadrà che praticamente nessuno vorrà rimanere articolo 6 e tutti stanno puntando a diventare articolo 8 perché diventerà diciamo lo standard minimo accettabile di mercato e infatti se andiamo a vedere questi sono dati di asso gestioni che magari da casa riuscirete meglio ad apprezzare non so quanto si apprezzeranno qua dalla sala però sostanzialmente gli ultimi dati che sono stati rilasciati da asso gestioni sulla raccolta netta dei fondi ci dicono che i fondi sostenibili quindi articolo 8 e articolo 9 stanno trainando la raccolta di mercato infatti nel secondo trimestre del 2021 la raccolta netta che è stata positiva per l'industria del risparmio gestito in Italia coincide quasi con la raccolta netta dei fondi articolo 8 e articolo 9 quindi oggi tutta l'industria si sta concentrando in questa direzione ed è vero quello che dicevo prima cioè la stragrande maggioranza dei fondi punta a diventare articolo 8 perché articolo 9 riguarderà una minoranza sostanzialmente di fondi quelli magari molto più verticali e specializzati che sono magari fondi con uno sfondo etico oppure fondi che mirano esplicitamente a creare un impatto di tipo sociale quindi social impact finance e così via quindi il mondo e l'Italia sta andando in questa direzione quindi i fondi ormai sono chiamati tutti i fondi fondi aperti fondi chiusi fondi di private capital vogliono diventare articolo 8 e l'industria questi sono dati di Morningstar ci fa vedere come ormai a livello mondiale siano quasi 5.000 i fondi sostenibili fondi che in Europa potremmo dire sono articolo 8 o articolo 9 quindi considerano esplicitamente o primariamente tematiche legate alla sostenibilità questo è il flusso a livello mondiale di nuovi fondi che in ogni trimestre arrivano sul mercato vedete che sono più di 150 ogni trimestre sostanzialmente e la stragrande maggioranza è un'Europa l'Europa come sapete è in questo momento leader a livello mondiale nel guidare quelle che sono le policy e le regolamentazioni ma anche l'attenzione degli investitori sui temi della sostenibilità secondo tema che volevo trattare è quello dei benchmark e cioè un fondo può essere sostenibile o meno la tassonomia europea ci dice quali sono i criteri attraverso i quali tu puoi definirti articolo 8 o articolo 9 ok ma c'è anche il tema del cambiamento climatico quindi l'Unione Europea ci dà anche dei riferimenti rispetto ai cosiddetti benchmark climatici e cioè quando un fondo può dire che contribuisce agli obiettivi di Parigi agli obiettivi di riduzione e di adattamento al cambiamento climatico sono dei criteri molto ben definiti ci sono tre obiettivi principali dieci fasi del piano di azioni che hanno generato due possibili benchmark che vedete raffrigurati qua adesso vorrei non abusare troppo del tempo però rimane agli atti e potete facilmente trovarla su internet questa definizione questo potrebbe essere la prima di una lunga serie di seminari da questo punto di vista volentieri per noi con noi sfondi una porta aperta perché stiamo facendo tantissima formazione su questo quindi l'Unione Europea che strumenti ci dà oltre a articolo 8 e articolo 9 specificatamente sui benchmark climatici ci dice anche quando un fondo può essere definito come allineato alla transizione climatica questa sigla CTB che vuol dire Climate Transition Benchmark o ancora di più no ancora di più allineato agli accordi di Parigi quindi questa sigla PAB che sta per Paris Unlined Benchmark è una specie di bollino addizionale se un fondo di investimento rispecchia questi criteri ad esempio seleziona i titoli nei quali investe andando a guardare se fanno disclosure sull'emissione se le imprese emittenti fanno disclosure sull'emissione di gas inquinanti nell'atmosfera se ad esempio dichiarano obiettivi sulla decarbonizzazione quindi con quanto contribuiscono all'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto degli 2 meglio ancora 1,5 gradi che abbiamo detto prima allora insomma c'è tutta una serie di criteri attraverso i quali tu puoi anche aggiungere al tuo prodotto finanziario al tuo fondo il fatto che è allineato ai benchmark europei rispetto alla transizione climatica ora di fronte a tutto questo quale può essere il contributo del fintech quindi io ho voluto darvi diciamo alcune piccole note di come sta andando soprattutto la direzione dell'industria del risparmio gestito allora secondo me il fintech ha a che fare col tema ISG in due diversi ambiti che fra l'altro rispecchiano quello che è il principio della cosiddetta doppia materialità che è contenuto nelle direttive europee ed è previsto dai policy maker europei e cosa vuol dire questo principio della doppia materialità doppia materialità vuol dire guardo non solo a quanto un'impresa è impattata dagli aspetti legati la sostenibilità che è l'impatto molto applicato negli Stati Uniti principio secondo il quale io vado a vedere come un'impresa viene in un qualche modo impattata dai rischi legati al fattore ambientale al fattore sociale al fattore di governance quindi rischio che magari ci sia un episodio di corruzione rischio che magari un dipendente abbia un incidente sul luogo del lavoro rischio che l'impresa vada ad inquinare o sia danneggiata dall'inquinamento ma poi c'è anche l'altro aspetto quindi doppia materialità l'altro aspetto invece la prospettiva si ribalta cioè quanto l'impresa contribuisce a raggiungimento dei 17 obiettivi strategici globali quanto l'impresa contribuisce a ridurre il cambiamento climatico e adattarsi al cambiamento climatico quindi principio della doppia materialità allora da una parte quindi le aziende FinTech sulla base di quello che diceva Alessandro sono chiamate a interrogarsi su quanto sono sostenibili rispetto ai KPI rispetto ai parametri che abbiamo visto prima ma dall'altra parte noi possiamo vedere anche quanto l'aspetto ISG può essere un'opportunità di business per le imprese FinTech e allora qua ho provato a dare alcuni punti per una possibile agenda primo ad esempio le FinTech sanno utilizzare bene i social media l'intelligenza artificiale il machine learning le tecnologie blockchain questo può essere preziosissimo per combattere il greenwashing e in generale migliorare lo scoring dal punto di vista ambientale perché quando magari non si fa affidamento ai dati che vengono rilasciati dalle imprese o questi dati non sono disponibili bisogna fare affidamento ad altri dati quindi la possibilità di avere dei dati precisi certificati la possibilità anche di lavorare sui big data è un argomento una tematica molto interessante anche per fare divulgazione anche per confrontare dati soprattutto relativi al rischio climatico quindi pensate quanto sia prezioso importante per un'impresa avere degli strumenti con il supporto magari di una startup FinTech per capire qual è il rischio climatico cioè se tu sei in un certo posto e se tu fai una certa attività e hai determinate caratteristiche qual è il rischio in termini di sostenibilità che tu puoi sostenere parliamo di utilizzo di tecnologie di dati e strumenti statistici per fare analisi di scenario simulazione stress test per migliorare la gestione del rischio di sostenibilità e infine io citerei anche le startup FinTech che propongono servizi finanziari di investimento che possono essere focalizzati anche su tematiche di impatto ISG ad esempio le piattaforme di crowdfunding che sono specializzate nel proporre investimenti sostenibili quindi investimenti magari nelle life sciences che migliorano la parte S quindi che hanno un impatto poi dopo sociale positivo investimenti di natura sul tema ambientale quindi l'energia rinnovabile la produzione di energia verde che contribuisce a tutta una serie di obiettivi di sostenibilità che abbiamo visto prima piuttosto che anche il tema del robot advisory quindi la possibilità che ha una startup FinTech di fare anche consulenza finanziaria su temi di sostenibilità e quindi su quella enorme massa crescente di investitori che chiedono di investire il loro denaro in maniera sostenibile io credo che qua ci sia uno spazio immenso ad esempio per le startup FinTech che vogliono offrire advisory vogliono servizi vogliono offrire diciamo servizi di questo tipo mi fermo qua mi fermo qua prego grazie mille Giancarlo intanto introduciamo allora Camillo Zana mentre facciamo un cambio di palco adesso vi facciamo cambiare slide grazie e vai Camillo intanto ti preparano le slide va bene grazie innanzitutto dell'invito ho ascoltato con molta attenzione quello che anticipato l'avvocato Lerro e il professor giudice hanno detto molte cose che avrei dovuto affrontare anch'io cercherò di verticalizzare su alcuni elementi che sono comunque usciti magari andando anche oltre il concetto delle slide anche perché replicare le opere d'arte dell'avvocato Lerro nelle slide è veramente è veramente è veramente difficile sono il consulente scientifico di SDCert già nome dice chiaramente perché questo ente nasce e qual è la sua finalità e qual è il suo obiettivo tutt'altro che facile tutt'altro che semplice il professor giudice in particolare ha soprattutto nell'ultima parte del suo intervento messo in evidenza come sia importante avere dei dati chiari dei dati certi parlato di dati certificati anche se non mesi certi io non so più se veramente parlando di ESG sia corretto parlare di certificazione secondo me bisogna andare oltre bisogna andare oltre per andare oltre io vi chiedo veramente di tenere a mente questa norma che è la ISO 17029 perché rappresenta sicuramente la nuova frontiera della parte delle certificazioni e la rappresenta perché di fatto introduce due concetti fondamentali che sono quelli di verifica e di validazione ora la sostenibilità dovrà rispondere in parte a una serie di requisiti e disposizioni normative già le anticipate sia l'avvocato Lerro che il professor giudici ma ci sconteremo sempre di più con tutta una serie di affermazioni con tutta una serie di asserzioni che dovranno essere verificate chiunque di voi vada sul sito web di qualsiasi organizzazione che decide di mettere in evidenza questo argomento vedrà io sono sostenibile perché e chi lo dice io per esempio opero parecchio nel campo del trasporto e la logistica è pieno di trasportatori che dicono di essere sostenibili perché hanno due, tre, quattro mezzi LNG professore sa benissimo che se la mettiamo da questo punto di vista per quanto riguarda il contributo rispetto alla CO2 equivalente quindi rispetto a uno scopo 1 per esempio non siamo molto lontani da una come dire realtà performante di altri tipi di alimentazione ma cosa vuol dire verifica cosa vuol dire validazione la verifica è sostanzialmente la conferma di un'osservazione su dati storici la validazione è riuscire a dichiarare quanto è attendibile quello che io vado a dichiarare nel futuro quando parliamo di SGI non dobbiamo fermarci al presente la fotografia della situazione attuale è relativa a quello che è importante e dove si andrà e dove ci sarà concesso di andare e su questo faccio una anticipazione personale io ritengo che tra le tre lettere quella che sarà sicuramente la più percorribile in materia di miglioramento è la S la E benissimo in questo momento qua è sicuramente al centro dell'attenzione è diciamo l'argomento più stressato però la S è quella sulla quale forse si può agire in modo molto più concreto è importante comunque capire il legislatore cosa fa chiaramente il professore diceva anticipato quello che è comunque l'indirizzo delle autorità comunitarie la transizione si dovrà fare la finanza pubblica non ce la farà spostiamo il più possibile i capitali privati verso quelle realtà che possono comunque migliorare gli aspetti di sostenibilità e qui vado a a riprendere alcune alcune proposte di direttiva che già sono state citate per esempio la CSRD quindi la corporate social responsibility quindi le dichiarazioni di sostenibilità non chiamiamole più dichiarazioni non finanziarie lo dice il legislatore stesso sembrerebbero in subordine rispetto a quelle finanziarie no sono dichiarazioni di sostenibilità e questa proposta di direttiva dice esattamente cosa devono contenere tenete presente che questa norma verrà applicata alle grandi imprese ma anche alle piccole e medie quotate in qualsiasi mercato si passerà dalle 10.000 attuali a circa 55-60.000 imprese interessate sono ancora poche sono pochissime nella presentazione CERVED fatta un mesetto fa circa secondo secondo gli analisti CERVED il tema ESG coinvolgerà circa 800.000 imprese solamente sul territorio nazionale cosa sono 60.000 in ambito comunitario però c'è un problemino che se voi guardate le dichiarazioni di sostenibilità presentate oggi il repo di sostenibilità al di là di tutto il grande vestito legato agli aspetti di marketing tutte falliscono quelle che io ho visto quasi tutte falliscono sull'aspetto legato alla supply chain non è complicato per un'organizzazione strutturata dire come è posizionata o dove pensa di andare ma la supply chain dove la mettiamo? Tutti o quasi tutti sono terzisti di qualcun altro e tutti e quasi tutti dovranno essere coinvolti da questo tipo di percorso la direttiva mi dice cosa deve contenere questa dichiarazione e come va strutturata e mi dice anche che il fatto che le dichiarazioni finanziarie debbano essere certificate e queste no renderebbe non giustizia e soprattutto renderebbe difficilmente comprensibile l'importanza che può avere questo tipo di attività quindi dove si inseriscono gli enti di certificazione? Il proposto dice chiaramente potremmo essere di revisione i revisori contabili purché abbiano fatto un determinato percorso o gli enti accreditati quindi questo sarà sicuramente un argomento assolutamente importante per il futuro ma attenzione quella che secondo me avrà l'impatto assolutamente più devastante è la proposta relativa alla due diligence ho avuto modo di assistere a un webinar molto interessante dove allo stesso tavolo erano seduti manitese e buddise il diavolo e l'acqua santa permettetemi questo tipo di paragone del resto di questi esempi c'è tantissimi abbiamo il manifesto dell'autonomia di Davos nel 2020 e abbiamo le encicliche di Papa Francesco laudato sì e fratelli tutti due fonti completamente diverse che arrivano sostanzialmente ad un punto di congiunzione addirittura in sovrapposizione per quanto riguarda certe scelte da prendere la due diligence sostanzialmente punta tutto sull'human rights quindi andiamo sulla lettera S e obbligherà anche qui le organizzazioni di grandi dimensioni quotate in mercato a dichiarare pubblicamente qual è l'analisi che viene fatta per quanto riguarda la catena del valore per quanto riguarda l'human rights voi sapete che lo schema lo standard principale di riferimento lo schema principale di riferimento per quanto riguarda le dichiarazioni sostanzialmente è il GRI in generale nell'ultima edizione dell'ottobre scorso ha messo gli human rights dappertutto e questo sarà sicuramente un argomento anche questo centrale fortissimo perché l'impianto di questa proposta è lo stesso del GDPR di quello della privacy del data protection con delle sanzioni che possono andare anche in relazione al fatturato e soprattutto il divieto anche per esempio di partecipare ad appalti pubblici finanziamenti eccetera ma soprattutto apre in modo chiaro la possibilità delle azioni civili caro la mia organizzazione caro il mio fondo secondo me tu hai dichiarato il falso la tua catena del valore produce un danno incredibile io ti faccio a causa e tu mi devi mi devi rendere conto sfdr non mi fermo su questo perché diciamo che è un argomento che sicuramente conoscete moltissimo però i partecipanti in mercati finanziari l'ha spiegato benissimo benissimo con le sue slide il professore qui è vero c'è un movimento pazzesco nessuno sa bene cosa fare per il momento se la cantano e se la suonano questa è la verità in attesa che il legislatore arrivi a dare delle indicazioni più chiare sistema bancario linee guida eba però vedete che stiamo passando progressivamente dalle asserzioni dalle dichiarazioni dal dire qual è la mia catena del valore ad un rating perché qui parliamo di rating da una cosa diversa e chi dice e chi si muoverà per dire quali sono le regole che dovranno essere applicate nell'assegnare un valore che potrebbe avere delle conseguenze importanti molto importanti aspettiamo anche qui che tutti dicono qualcosa aspettiamo che le regole tecniche vadano avanti aspettiamo che i benchmark che parlava anche l'avvocato Lero si facciano avanti sicuramente non sarà una cosa semplice inserire rischi in tutte le operazioni di credito ho avuto modo soprattutto collaborando con altre iniziative che ho parlato anche l'avvocato Lero per esempio questo portale di raccolta dati e informazioni di incontrarmi con dei funzionari di CNA della confederazione nazionale artigianato hanno capito benissimo l'argomento cioè loro che si occupano delle piccole organizzazioni si stanno muovendo in modo importante per dare ai loro associati un primo strumento di valutazione che poi potranno utilizzare indipendentemente da quelle che sono come dire gli obblighi che possono arrivare del signor sui bancari ovviamente una confederazione di questo tipo ha un potere contrattuale anche forte nei confronti delle istituzioni e quando parliamo di rating ESG se quelli finanziari sono sovrapponibili al 95% quelli ESG probabilmente sono diversi al 95% siamo pieni di casi commissionati da grandi organizzazioni sulla stessa impresa risultati completamente diversi sarà fondamentale arrivare a questo punto perché anche tutti gli aspetti legati alla tassonomia eccetera sì benissimo è tutto è perfetto però entrare a valutare e dire sì tu sei articolo sei articolo 8 piuttosto che no ragazzi bisogna andare a fare delle valutazioni sulle imprese che ci stanno sotto che non sono banali la cultura c'è la formazione c'è sicuramente il master che dice il professore ha questa funzione anche di creare le figure e le competenze quindi quello che è fondamentale e qui vado a chiudere sostanzialmente è quello di avere informazioni chiare e considerazioni dell'ABC sono chiare da questo punto di vista informazioni non definite asimmetriche rendono estremamente complicato tutelare il destinatario di queste norme che l'investitore se parliamo ovviamente di aspetti e di partecipanti ai mercati ai mercati finanziari ma quello che sarà fondamentale è ragionare in termini di prospettiva e quindi vi ricollego alla prima slide cioè fondamentale tenetola mente parlare ora di 17.029 di parlare di verifica e di validazione cioè di quanto quello che io mi do come obiettivo è plausibile ed è sostenibile e non è solamente una bella operazione di marketing grazie grazie Camillo e io adesso cambio lo schermo rapidamente ed intanto passo la parola a Massimiliano che ci racconta un'esperienza pratica in un settore molto molto legato al tema di cui stiamo trattando sì buongiorno a tutti io ringrazio l'amico Lerro data l'ora io parlerò di arte quindi non parlerò di finanza che mi sembra più appropriato ma diciamo che in realtà Infinity Hub è nato da un sogno nel 2016 che era quello di condividere esperienze di alta finanza sul green con cittadini quindi era un po' il tentativo di rendere anche emozionale un'economia fatta di piccoli progetti piuttosto che di grandi numeri di grandi B2B il 18 di novembre di quest'anno scusate nel report leader della crescita analizza 8000 aziende che di tutte le dimensioni che hanno avuto un incremento di valore della produzione superiore al 15% e Infinity Hub la leggiamo come quarta con una crescita del 209% nel mese di settembre abbiamo fatto la prima campagna di equity crowdfunding per volumi oltre 2 milioni di euro incassati in due mesi e quindi dopo 5 anni credo che la validazione del modello con questi risultati sia più che mai raggiunta ma la cosa più interessante è il numero di soci che sono stati prodotti con il nostro modello di business siamo partiti con 20 azionisti fondatori siamo diventati benefit in automatico a luglio di quest'anno perché rispettavamo già dalla nascita i criteri ISG per cui ci siamo concentrati molto già dall'origine sulle cose che hanno un senso perché da bambini le sappiamo quali sono le cose che hanno un senso poi abbiamo bisogno di 20.000 regole 20.000 norme comandamenti però da bambini lo sappiamo e quindi abbiamo dovuto entrare io sono un amante nell'entrare come diploma sono geometra quindi mi piace disegnare scarabocchiare modelli eccetera e mi piace entrare intimamente sulle tecnologie sui modelli sulle delibere di finanziamento sul crowdfunding e abbiamo avuto un gran culo perché nel 2016 è partito il crowdfunding in Italia l'equity crowdfunding quindi abbiamo inanellato la prima campagna di equity crowdfunding sul green su noi stessi l'anno successivo la prima campagna sulla mobilità elettrica poi la prima campagna sull'eolico poi la prima campagna su riqualificazione di impianti sportivi e oggi siamo in odore di quotazione in borsa la campagna di settembre abbiamo raccolto 2 milioni e 17 euro da 332 nuovi azionisti di Infinity Hub più della metà investitori professionali Antoine de Saint-Exupéry dice che per unire gli uomini è necessario indurli a lavorare assieme con questa applicazione con questo modello noi partiamo da risparmiatore piccolo dal artigiano dal progettista financo poi l'investitore professionale e anche la banca abbiamo alcune alcune banche che sono entrate anche nei nostri nelle nostre NUCO nelle società che controlliamo e che rappresentano i nostri progetti quindi questo è un momento direi straordinario per le tecnologie che abbiamo è un momento straordinario per il fintech soprattutto per l'equity crowdfunding che è cresciuto di 40 volte come noi noi in 5 anni siamo cresciuti di 40 volte e quindi credo che abbiamo di fronte a noi delle possibilità che sono molto superiori a quanto il legislatore riesca a correre dietro e a normare ma perché io lavoro noi lavoriamo con 4-5 portali i primi in maniera ormai sistematica l'età degli operatori del crowdfunding di poco sfiorano i 31-32 anni e lavorano H24 i gruppi Whatsapp hanno una velocità d'esecuzione terrificante perché poi per noi diciamo due sono gli elementi principali che dovrebbero caratterizzare ciò che veramente è fintech credo uno di questi li ho sentiti un quarto d'ora fa uno è il tempo perché se devo pensare ad un'iniziativa sostenibile ma ci impiego 20 anni è capace di futuro ma se ci metto 20 anni a partorirla inutile l'altro aspetto è il win-win che io sono un amante di Dante vorrei dirla in italiano cioè il punto di parete efficienza che si studia in economia che in realtà di fatto non è mai raggiungibile non è vero non è assolutamente vero i nostri nonni lavoravano in parete efficienza continuamente cioè perché perché non può essere tutto un doubt d'essere non può essere tutto normato non me ne volere da contratti con 27.000 clausole con norme del legislatore ci vuole il buon senso perché con il buon senso si crea l'obiettivo comune e l'alleanza è univoca non c'è c'è solo una squadra che vince non ci sono squadre da contrapporre perché l'obiettivo mio è diverso dal tuo gli obiettivi devono essere chiari limpidi trasparenti e nella sostenibilità ciò avviene in maniera assolutamente interessante ma se si va a leggerla se si va a viverla e se la si vive non solo con il cervello non solo con i muscoli in infinity usiamo molto cervello molto muscoli però cerchiamo di lavorare con passione quindi con sacrificio fatica ma senza mai lasciare nulla indietro i 1032 soci che oggi abbiamo nel gruppo probabilmente la metà non sapevano nemmeno cosa fosse project financing che cosa fosse l'equity crowdfunding che cosa fosse anche l'efficienza energetica guardate l'efficienza energetica raccogliere 2 milioni in due mesi per l'efficienza energetica è una cosa folle perché quando noi pensiamo a sostituire le lampadine le caldaie i cappotti gli infissi sono rotture di balle terrificanti cioè chi vuole investire su un'azienda che moltiplica progetti di questo tipo nessuno salvo il fatto di renderla emozionale però per renderla emozionale bisogna far vincere tutti perché l'esperienza deve essere condivisa io ho tre figli maschi tra l'altro uno appassionato di centrali nucleari che sta facendo ingegneria energetica ma avrà il tempo per comprendere meglio ciò che è veramente sostenibile e soprattutto dove vinciamo tutti perché la pareto efficienza quando la applichi è interessantissima perché tutti possono vincere i progetti che mettono al centro l'equity crowdfunding quindi la condivisione del capitale sociale di un'azienda è cosa vera e la relazione umana che è il nostro bene più profondo si attiva in maniera automatica non c'è norma c'è semplicemente l'investitore che vuole informazioni che magari vuole capire meglio vuole replicare vuole fare attività commerciale noi abbiamo decine di milioni di progetti in pipeline non abbiamo commerciali perché chi entra porta progetti è interessato a scavare è un'educazione quindi noi siamo a dire il vero molto più vicini al mondo dell'educazione piuttosto che al mondo finanziario però le banche hanno bisogno di nuovi modelli collaboriamo finanziano i nostri progetti che i primissimi erano assolutamente imbancabili però girano funzionano creano redditività quindi questo è veramente molto molto interessante vorrei concludere con una definizione che dà lo scrittore Sharp Egy di rivoluzione perché secondo me oggi siamo di fronte ad un momento che è rivoluzionario soprattutto per il fintech per il clintech ed è tutta positiva la definizione non dà contraposizioni non parte da questo no ti dico io quello che è sì ma parte da una simbologia che è il simbolo all'incontrario di diabolico il simbolo unisce il diabolico divide evidentemente e la definizione è questa ciò che fa una rivoluzione è la novità la totale novità dell'istante che è venuto rispetto all'istante che lo aveva imprudentemente preceduto è questa totale novità che fa la rivoluzione non la contrapposizione passare attraverso la crisi di una rivoluzione c'è sempre una crisi dove c'è una rivoluzione magari un attimo prima è essere mentalmente sentimentalmente essenzialmente trasferito in un mondo nuovo e questo è quello che dobbiamo fare grazie ringrazio massimiliano per questa splendida chiave di lettura a questo punto siamo molto molto stretti con i tempi quindi passo la parola al panel successivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti